Un saluto da Mirabella in Bacchari, dall'interno della piazza antistante, il Palazzo Biscali, il movimento più insigne della città del Tombolo. Siamo in compagnia dell'amministrazione comunale di Mirabella in Bacchari, benvenuto a Giovanni Ferro, il sindaco, grazie mille per essere qua. Buonasera, grazie a voi. E l'assessore allo sport, turismo, spettacolo, il dottor Filippo Nisi, grazie mille. Buonasera. Un piccolo pensiero in merito anche su questa manifestazione che sarà in Piazza Vespri, appunto il sagrato a Chiesa Maria Santissima delle Grazie, il Ludo Festival, che c'è maggiore attenzione perché quest'anno ricorre il ventesimo anno della nascita di questa manifestazione. un futuro sicuramente rosio, un futuro di prosperità, un futuro anche di ottimismo sicuramente a questa manifestazione perché sfornano talenti e quindi sono talenti nostrani. Ecco, un piccolo pensiero in merito. L'amministrazione comunale da me cappeggiata quest'anno ha l'onore di celebrare il ventesimo anniversario del Ludo Festival che ormai è diventato un momento importante dell'agosto Mirabellese perché ormai da vent'anni è diventata una tradizione il Ludo Festival. Noi siamo contenti, abbiamo dato la disponibilità alle maestre della ludotecola di riorganizzare questo festival dei nostri bambini, dei nostri ragazzi. Sono contento perché riescono a coinvolgere anche chi ha fatto il Ludo Festival negli anni e ora magari è all'università o si è laureato o hanno intrapreso il loro percorso riescono a coinvolgere. È un coinvolgimento sempre della nostra comunità e di questo ne sono contento. Io spero che il tutto è legato sempre ai problemi finanziari dell'ente. Vi assicuro che non è stato facile, è stato sofferto riorganizzare un mese, 20 giorni esattamente di eventi a Mirabella perché dobbiamo farci purtroppo sempre i conti per bene. E i conti più li fai e più mancano. Quindi speriamo che riusciremo a portare avanti questa tradizione del Ludo Festival Mirabellese. Io colgo l'occasione per ringraziare i bambini per l'impegno che mettono nella loro attività, ringraziare i bambini che ci allietteranno di due serate, che sono sicuro che saranno due serate di grande successo. Ok, allora vediamo e conosciamo meglio questo programma e questo periodo che vede l'agosto, anche un po' luglio, agosto, settembre, insomma un periodo di affollamento nella città di Mirabella in Bacri, il sindaco già l'ha detto, è un grande momento di partecipazione e di comunità perché anche con poco si può realizzare qualcosa e l'amministrazione ferro comunque è partita, come va va, con quello che c'è, con quello che c'è stato, ma comunque voi state organizzando quello che i mirabellesi vogliono, avrete tinturia, voglio dire è una bella iniziativa, magari li accenniamo a qualcuno degli eventi salienti, quelli che vedranno coinvolto all'intero paese e anche un tuo piccolo commento, come ti sembra a te questa organizzazione di quest'anno? Intanto sei Giovanni, quanti anni hai? Sì, io ho 29. Assessore sport, turismo, spettacolo, Filipponi si complimenta. Sì, grazie. Allora, a livello organizzativo sicuramente è stata una faticaccia perché lavorare senza avere tantissime risorse è abbastanza dura e complicato. Diciamo che stiamo sperimentando un po' di iniziative affinché riusciamo a reperire risorse per finanziare quest'estate. Come diceva il Sindaco abbiamo fatto questo accordo, questa iniziativa con la Chiesa per quel che riguarda la lotteria. Un'altra iniziativa è quel che riguarda la centralizzazione, chiamiamo così, della raccolta degli sponsor, in modo che gli sponsor contribuiscano all'estate mirabellese e in cambio loro possono dire in giro sia alla televisione che nei loro manifesti, nelle loro pubblicità che sono sponsor del comune di Mirabella in Baccari. Un modo come un altro per raccogliere più fondi possibili e cercare di avere quelle risorse necessarie ad affrontare quest'estate. Abbiamo cercato quindi di fare un'estate con più eventi possibili. Ci saranno eventi ogni giorno a partire iniziando dal 5 di agosto fino al 20 con la festa della Madonna, se riusciremo anche dopo ci saranno alcuni eventi che magari riusciremo ad organizzare nel corso dei prossimi giorni. Abbiamo fatto anche richieste di finanziamento a livello regionale proprio per acquisire altre risorse e poter organizzare queste serate. Per cui dal punto di vista burocratico, organizzativo è stata come dicevo prima una faticaccia. Fortunatamente abbiamo trovato la collaborazione di tante persone. Il caso del Ludo Festival è il caso emblema in cui ci sono le maestre che si impegnano ad organizzare questa iniziativa. Anche la festa del contadino abbiamo trovato tante persone capaci di collaborare e di esporre i loro prodotti per farsi sia pubblicità che comunque contribuire alla riuscita dell'evento. In più abbiamo inserito tante serate musicali. Ne citavi tu una che sarà magari la serata principe, quella dei Tinturia. Ci saranno anche i Tepisti dei Sogni giorno 19. Ma non voglio dimenticare anche quelle serate che magari sono meno pubblicizzate, però per noi sono altrettanto importanti. Ci sarà una serata giorno 7 di agosto con Filippo Leonardi e la sua band che suoneranno i canti e Kunti, quindi faranno una cosa di un po' di tradizionale. Avremo gli Africa Family, giorno 9, gli Afro Family che faranno una serata musicale alla rotonda. Ci sarà una serata di danza organizzata da Associazione Coreia durante la settimana della Madonna e una serata organizzata da associazioni quali Proloque, ACM e Mirabellesi che faranno una sorta di notte bianca contribuendo un po' a fare quel benvenuto ai cittadini mirabellesi cercando di mettere all'interno di quella serata sport, musica e degustazione di prodotti in modo che sia una festa di tutti. Come dicevamo abbiamo messo tanto impegno perché, come diceva il Sindaco, l'obiettivo era quello di dare ai cittadini che rientrano per le vacanze estive un paese, una sensazione di un paese vivo, un paese che si fa in quattro per accoglierli perché loro sono cittadini come noi, cittadini importanti come quelli che siamo residenti tutto l'anno e contribuiscono a quella che è l'economia mirabellese. Per cui era quasi un obbligo, noi l'abbiamo detto in campagna elettorale che avremmo cercato di fare il massimo per dare a questi cittadini che ritornavano per le vacanze un'estate degna di quello che era la loro importanza. Giustamente non è stato facile, potevamo fare probabilmente le cose un po' meglio questo sarà anche frutto dell'esperienza che ci faremo nel corso dei tempi difficilmente potevamo fare di più perché le risorse sono quelle e riuscire a mettere all'interno di un'estate, in 20 giorni di serate avendo un budget molto limitato non è stato facile però vedremo come andrà quest'estate, siamo convinti che i cittadini saranno soddisfatti e che nel proseguio questi cittadini stessi ci sosterranno nei momenti anche di difficoltà. Va bene, grazie mille per la vostra partecipazione, grazie per la disponibilità per essere stati qua noi abbiamo cercato di accompagnare quello che è l'attività del ventesimo anniversario della ludoteca comunale attraverso una manifestazione canora così chiamata Ludo Festival e di augurare un buon lavoro agli organizzatori tutti grazie mille all'amministrazione comunale e tanti auguri per il vostro lavoro amministrativo grazie a voi grazie mille per aver seguito ai nostri telespedatori e anche sul web, su youtube noi vi ricordiamo che potete seguirci anche nei social e su internet in genere grazie mille per averci seguito e buona serata a tutti, arrivederci grazie mille per averci seguito